Dio! Poia! Asi nusa! Sì, senti che hai, no? No, sei un'alteriore contatto toccato. Non so se c'è la volta. C'è il terreno da buono. guardate le camere mi sembra andata più piano guardate le bandiere gialte e avrei potuto farla anche io scusate la carriera condizionata va di nuovo attesa perché la carriera condizionata la carriera la carriera condizionata la carriera condizionata la carriera condizionata Grazie.